Ciao ragazzi da Nightwolf 70, oggi volevo presentarvi l'action figure della DC Comics, Swamp Thing, ossia l'uomo della palude. Fra l'altro questo tipo di personaggio è uno tra i miei preferiti, che inizialmente non sapevo neanche che fosse della DC Comics, ma pensavo un personaggio del cinema, creato per il cinema, perché hanno fatto diversi film e anche qualche serie televisiva. Ancora si parla degli anni 80, quindi che poi questo mostro, chiamiamolo un mostro, ma alla fine è un buono, è nato negli anni 70-71, anzi nel 71 mi pare che ha avuto la prima comparsa nei fumetti e poi da lì è iniziata tutta la sua storia. Si tratta di uno scienziato che stava facendo degli esperimenti in un laboratorio, questo laboratorio era sito vicino a una palude e lì siccome la fidanzata di questo scienziato piaceva anche al suo collaboratore, quanto pare dalla storia, il collaboratore per avere la fidanzata di questo scienziato, che dopo diventa Swamp Thing, ha fatto esplodere il laboratorio, lui ha subito delle mutazioni con degli agenti chimici, ha subito delle mutazioni particolari e è diventato poi Swamp Thing. Questo personaggio a me piace molto, insieme ad Aqua, a me anche, che è sempre della DC, ma quello semmai lo vedremo in altri momenti. Intanto guardiamo questo, qui c'è la scatola, qui qualcuno ha disegnato quel pennarello, ma prima della consegna, o durante la consegna, questi sono i personaggi che trovate in questa raccolta qui. Ce ne sono alcuni, Harley Quinn, Superman, Supergirl, Flash, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Batgirl, insomma, sono diversi personaggi. Hanno fatto diverse linee di questo action figure, questa diciamo che come qualità prezzo è una di quelle abbastanza buone, tra virgolette, ecco, se vediamo la fuori dalla scatola, eccoci qui, guardate la fuori dalla scatola, forse così la vedete un pochino meglio, facciamo un'inquadratura un po' più da vicino, ecco, notate queste, tutte queste venature, tutte queste rughe, troppo accentuate, perché lui appunto, essendo l'uomo della palude, qui ci sono anche degli arbusti che vengono fuori dalle braccia, perché lui proprio riesce a padroneggiare con tutti gli elementi della palude, quindi, no? Ecco, gli snodi sono presenti nella testa, nelle braccia qui, nei gomiti, qui nella mano, ma solo in questa, perché l'altra è un pugno, un pugno chiuso semplicemente, la testa si muove abbastanza, l'essere sinistra, poi nelle gambe ci sono solo le giunture, quella all'altezza delle linguine, ginocchia e piedi, ecco, questi sono i punti di torsione che può avere l'action figure. ecco, diciamo che non è una delle migliori prodotte, nel senso che di questi qui ce ne sono di diversi modelli e diverso tipo, però il rapporto qualità-prezzo, insomma, è abbastanza buono, e poi, insomma, come sbomping è fatto anche bene. Facci qui. è bello grande, perché se voi tenete conto di un telecomando, per televisione è bello grandino, questo è un telecomando di quelli medi, insomma, non è che sia una roba piccola, quindi, buttate anche un po' le dimensioni, anche rispetto alla mano, è abbastanza grande. Ecco, ragazzi, da Nightwolf70 è tutto per il momento, farò altre recensioni, adesso più avanti, anche perché era un po' di tempo che non ci si vedeva sul mio canale, quindi, con questa ripresa di sbomping vi lascio, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, e se no pazienza, insomma. Io intanto il video continuo a farli, per chi è appassionato come me di action figure, poi, vi saluto, saluto tutti i miei iscritti, a presto, ciao ciao! Ciao!